Docente di conservatorio in orchestrazione e concertazione jazz presso il conservatorio Cimarosa di Avellino, concertista, fisarmonicista, compositore, fonda l'associazione di promozione sociale Marco Lorusso Music Center nel 2009. Svolge anche attività di promozione culturale attraverso eventi, concerti, produzioni musicali con la Rouge Sound Production e inoltre promuove iniziative a scopo benefico e sociale con il Made in Italy Concert Show. Collabora con molteplici produzioni cinematografiche, televisive e teatrali di rilevanza nazionale ed internazionale. Vorrei aggiungere che il maestro Morricone ha usato veramente parole di applauso per lui dicendo che con grande emozione esprimeva i suoi personali apprezzamenti per l'attività artistica professionale di musicista. Lo scriveva nel 2010, da lì di strada ne ha fatta. Premio per il riconoscimento per il riconoscimento alla carriera artistica a Marco Lorusso. Vi ritorno da Lavana dove è andato appunto per delle esibizioni importantissime. Ma confidatevi, ritornate proprio per prendere un premio. Ti stava dando la mano? Esatto. Buonasera a tutti. Beh, io credo molto nelle cose, soprattutto quando vengono fatte con amore e con gioia. Quindi per me essere qua stasera è come essere a New York alla Carrera di Coe. Perché quando si ha una parola molto semplice che è la professionalità, significa semplicemente dare una parola per fare una cosa. Quindi suonare al matrimonio di Tiziana o esibirsi in una grande sala da concerto se una persona dà una parola è quella. Quindi io per nulla al mondo avrei mancato di essere qua, soprattutto perché sono un nuovo concittadino militerno e ci tengo molto. Grazie, grazie veramente. Ma il concittadino è come Franco Nero si è diventato. Allora, però, Marco, si deve sentire. La vita di Gio è anche da Franco Nero. Ah sì, eh? Sì, sì, sì. Allora, prendiamo prima il premio o prima voi suonare? No, prima il premio. Prima il premio, prima il premio. Facciamo le foto di rito, poi il cittadino. Premio? La dottoressa Morsa. Grazie. Premio per il premio di Giovincio Artistico, per la Carrera Artistica. Queste le hai portate da Lavana? A Marco Nero, sì? Ok, allora.